Tra le grandi schermitrici di casa nostra, Elisa Di Francisca si è imposta nel fioretto come soltanto le campionesse sanno fare, vincendo le più prestigiose medaglie, dalle Olimpiadi ai mondiali. Le sue carte vincenti sono state giocate anche in tv, quando nel 2013 si è laureata vincitrice di Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro. La ritroviamo dal novembre 2024 su Canale 5 nei panni di concorrente della nuova edizione della Talpa. Un'occasione che ci permette di ripercorrere la sua vita. Età, infanzia, scherma. Elisa Di Francisca nasce a Iesi, nelle Marche, il 13 dicembre 1982. Cresce in una famiglia numerosa con due fratelli, Martina e Michele, condividendo con loro un'infanzia vivace e dinamica. I suoi genitori sono Giacomo, originario di Villa Rosa in Sicilia, e Ombretta Trovarelli, che la supportano adeguatamente nelle sue prime passioni. Inizialmente attratta dalla danza, Elisa scopre la scherma durante l'adolescenza, uno sport che praticano anche i suoi fratelli. A soli 13 anni vince il primo titolo italiano nella categoria ragazze, dimostrando da subito un talento innato per il Fioretto. La scuola Iesina è l'ascesa nel Fioretto. La sua carriera inizia a prendere forma all'interno della prestigiosa scuola di scherma di Iesi, da cui sono emerse grandi campionesse come Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, leggende della scherma italiana. Elisa è influenzata dall'ambiente stimolante ed emerge rapidamente nella disciplina del Fioretto. Nel 2000 si classifica seconda nei campionati italiani della categoria giovani e terza negli assoluti, ripetendo poi questi successi tre anni dopo. Questi risultati le aprono le porte della nazionale italiana, con cui debutta ufficialmente nel 2004, ottenendo la prima medaglia d'oro a squadra ai mondiali di New York. Il successo internazionale e la consacrazione olimpica La svolta decisiva arriva nel 2010, quando conquista una serie di podi nella Coppa del Mondo, aggiudicandosi un primo, due secondi e tre terzi posti, a conferma della sua crescita costante. Quello stesso anno si laurea campionessa italiana di Fioretto, battendo in finale Valentina Vezzali, in un evento simbolico della sua affermazione tra le migliori atlete del mondo. Nel 2011 prosegue la sua scia vincente con l'oro agli europei di Sheffield, e nel 2012 raggiunge l'apice con due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Londra, sia nell'individuale che nella prova a squadre. È una doppia vittoria che consacra Elisa Di Francisca come una delle più grandi schermitrici italiane, facendola entrare definitivamente nell'elite della scherma mondiale. Medaglie e traguardi dal 2013 al 2020 Negli anni seguenti, Elisa Di Francisca continua a collezionare importanti successi. Nel 2013 vince il bronzo individuale e l'oro a squadre ai mondiali di Budapest e si impone ai giochi del Mediterraneo di Mersin. Nel 2014 ottiene un altro oro a squadre ai mondiali di Casanney, nel 2015 ripete il risultato a Mosca. Ai giochi olimpici di Rio 2016 conquista l'argento nel fioretto individuale, mentre ai mondiali di Rio si aggiudica un argento a squadre. Dopo un breve ritiro, torna alle competizioni nel 2019, ottenendo l'oro individuale agli europei di Dusseldorf e chiudendo la sua carriera sportiva con un bronzo individuale e un argento a squadre ai mondiali di Budapest. Il ritiro e la vita post-agonistica Nel 2020 Elisa Di Francisca annuncia il suo ritiro dall'attività agonistica, confermando la volontà di dedicarsi alla famiglia e ai progetti personali. Inizia dunque una nuova fase della sua vita, affiancando alla sua carriera sportiva un ruolo di testimoni alle ospite televisiva. La sua autobiografia, dal titolo Giù la maschera Confessioni di una campionessa imperfetta, viene pubblicata nel 2021 e rivela aspetti intimi della sua vita, inclusi momenti difficili vissuti in una relazione abusiva e un'intensa esperienza personale che include una relazione con una compagna di squadra. Quest'opera è anche un appello a sostegno delle donne che affrontano situazioni di violenza. La televisione, da ballando con le stelle alla talpa Elisa Di Francisca è nota al pubblico televisivo anche per aver partecipato a diversi programmi televisivi. Nel 2012 appare come giudice a Miss Italia e successivamente al Festival di San Remo come presentatrice di un brano in gara, insieme alle sue compagne di squadra. Nel 2013 si aggiudica la vittoria Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, dove si esibisce in coppia con Raimondo Todaro. Nel 2018 debutta come conduttrice su Eurosport durante le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, dimostrando un crescente rapporto con il mondo dello spettacolo. Nel 2024 entra a far parte del cast del reality show La Talpa, condotto da Diletta Leotta, e in onda su canale 5. Vita privata e famiglia. Nel 2019 Elisa Di Francisca sposa Ivan Villa, autore e produttore televisivo, conosciuto nel 2014 durante il programma La papera non fa l'eco. Dalla loro unione nascono due figli, Ettore nel 2017 e Brando nel 2021. La sua esperienza familiare è un punto fermo nella sua vita, e sui social Elisa condivide frequentemente momenti della sua quotidianità, dimostrando un forte attaccamento ai valori familiari e un lato privato che il pubblico apprezza. Impegno sociale e attività umanitarie Parallelamente alla carriera sportiva e televisiva, Elisa Di Francisca si impegna in cause sociali. Nel 2012, pochi mesi dopo i successi olimpici, partecipa a una spedizione umanitaria in Kenya con l'organizzazione Intervita Onlus, documentando la sua esperienza sul blog La Mia Africa, ospitato dalla Gazzetta dello Sport. Presta inoltre il suo volto a campagne pubblicitarie e sociali, come quella per Banca Marche, e utilizza la sua visibilità per sensibilizzare il pubblico su temi importanti, dalle esperienze di abuso alle sfide personali affrontate e superate. La polemica con Benedetta Pilato. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024 nasce una controversia a causa di alcune parole critiche di Elisa Di Francisca nei confronti della nuotatrice Benedetta Pilato. L'ex schermitrice critica l'atteggiamento soddisfatto della nuotatrice per il quarto posto ottenuto, una reazione che a lei sembra strano. Da più fronti giungono critiche nei confronti della Di Francisca, che telefona il giorno seguente alla nuotatrice per chiarire, spiegando che il suo commento era parte di un discorso più ampio e che non voleva sembrare critica verso una 19enne. La Di Francisca spiega che il suo messaggio è stato frainteso e che il suo approccio alla competizione è segnato dalle difficoltà che ha affrontato nella sua carriera. Nonostante ammetta di poter migliorare il modo in cui esprime le sue opinioni ha chiarito che il suo intento era motivazionale. E voi cosa ne pensate?